0.3.800.1 FICO Favorevoli 3.800 delle commissioni 3.800 Pagina 30 Contrari 3.12 Simone Valente Favorevoli 3.14 San Marco Ci rimettiamo all'Aula E poi facciamo anche l'aggiuntivo 3.03 Caparini Contrari Non mi pare che ce ne siano altri Perfetto, grazie Governo Conforme al relatore di maggioranza Grazie Allora passiamo all'esame degli emendamenti 3.1 Pannarale Identico 3 Oh mi scusate Questo Brunetta me lo voglio scordare proprio 3.220 Brunetta Parere contrario Commissione Governo Si rimetta all'Aula Il relatore di minoranza Aperta la votazione Ci siamo? Bianchi Stella Bianchi Di Salvo Marchi Coppola Matarrelli Dincà Dincà non riesce Proviamo a sbloccare Malpezzi Anche non riesce Se c'è qualcosa dentro Toglietelo per l'immediato Poi vediamo Perfetto Hanno votato tutti E chiusa la votazione La Camera respinge Passiamo agli destri